Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft Oggi ragazzi andremo nel nether Ah, notte notte Se sentite video è mio fratello che guarda TPU Allora, entriamo Allora, come si può già vedere di qui c'è una strada che porta a un tempio di blaze Però non l'abbiamo già fatto questo bellissimo Dai, cadi Oh, c'è caduto Questa qui è una trappola per pigmen Ok, 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 bravo, ci stava Non devi rientrare caro mio Allora, aspettate ragazzi Adesso lo spingiamo Vabbè, un giorno cadranno Fidatevi Oh ragazzi, avete visto di cosa ci sono? Prendiamo l'arco C'ho un'amica, se mi sentite suggerire è per questa amica che non capisce una cippa lippa Ok, uno è morto Adesso mi sentite Ehi, amica Ok, devo passare da quella parte lì Non sarà molto difficile Allora, passiamo di qua Io non avevo proprio provvisto di ammazzare gas in questa puntata, ma va bene Ammazzeremo Ok ragazzi, io non ce lo posso fare Mi si sta consumando tutta l'armatura Vabbè che ne ho un'altra Però sai Andrà poi a abbassare un pochino, per favore No Saliamo qua Wow, quanto è grande Eh, lo so Ma non ha visto che è più piccole Tutti Giro E sparo L'hai preso una volta E sparo Vai headshot Eh vabbè Non l'hai preso Spari in headshot Headshot Vai headshot No Ragazzi, la lacrima di Ghast Cosa? È finita nella lava E quindi Perché ragazzi dovete sapere che io e mio fratello Andrea Facciamo i pozzionari Oh, va bene E le lacrime di Ghast sono molto utili Schifozzozzo Ah Fai schifo, lo sai Non ti hai preso Non l'hai preso Però lui ti ha preso molto bene Mi ha accertato di ammazzare È morto Ma va bene La lacrima di Ghast ragazzi Dai Cosa sarà qui Ok Non me la manco dare Perfetto Ok Adesso devo solo Ma non ti sudano quelli? No Perché non? Solo se li picchio Ah Picchiali? No grazie Non è che te ne attacca uno se li picchi Ti attaccano tutti Ah ok Bello Quindi tendenzialmente non si ammazzano Lo sai che ti si sta rompendo? Eh lo so Però vabbè Ne ho anche uno in diamante Però è bello Ragazzi non trovo più la strada di casa È bene In casa Ho il singhiozzo Ti sta bene Ma come mi sta bene? Sì Oh ragazzi per un pelo ragazzi per un pelo per un pelo Oh Prendiamo un po' di quarzo Ah Dai pensi a prendere il quarzo e non tornare a casa Il quarzo è utile Per i blocchi di quarzo Eh È intelligente eh Eh lo so Eh sì è intelligente Giulia Eh sì Giulia Ho potuto spinto un fuoco Adesso spingo pure questo Come fai a spenderlo? Così Eh sì è funziona vero? Niente non ha funzionato I miei metodi Oh ecco Ho ritrovato la strada Dove? Qua Ci dovrebbe Non me lo ricordo più Non vedo come se si è bloccata qui Ragazzi io non voglio vivere qui Allora vediamo un po' C'è un altro cast Eh ve lo miro È uno schifo di cosa Ciao lacrima C'è anche un magma Un magma bluc Un magma bluc Adesso lo miro Vedete può camminare nella lava con lo schifo È sparito È sparito E ha anche sprecato una freccia No l'ho ripresa La puoi riprendere Sì Se sono tu e le puoi riprendere E se sono degli altri? Allora dipende Se sono tu e dei tuoi compagni Sì se sono dei mostri no Il problema Allora ragazzi io direi che ci rivediamo quando avrò tornato Trovato La strada di casa dopo Ragazzi eccoci tornati a casa è stata un'impresa difficilissima Allora Io direi ragazzi io esco da qui Quanto quarzo ho però? Perché se ho meno di quattro di quarzo mi ha matto Ho cinque di quarzo Ok Cosa che ho fatto? Voglio altro tre di quarzo Cosa ho fatto? Eh mamma Vuoi essere salutata in questo video? Sì Se ancora non lo fate tu hai instagram giusto? Taggartela su instagram Come ti chiami? Non mi ricordo Che bello guarda Ragazzi Quando non ti ricordi il nome di instagram Ve lo scriverò qui sotto nei commenti Come ti chiami? Ma non si ricorda Dimambita Allora Ci serve il quarzo Dove si trova il quarzo? Non voglio allontanarmi Dai ti prego Un blocchettino Giusto tu Tre Mi servono tre blocchi Solo tre Basta Ancora nel fuoco Vabbè Arrivo Ci sarà del quarzo qui da qualche parte Andre Ci sono delle mie scarpe? L'ho trovato L'ho trovato Eh Andrea Duli Eh? Hai visto le mie scarpe? No Non le trovo più Brava Grazie Eccolo Ok Ok Ho due blocchettini di quarzo Tranquilla Tranquilla Si Ti ammazzo Non è caduta Si è solo spostata leggermente Allora ragazzi Adesso Ritorniamo nella nostra Sacro santa dimensione Perché è sacra Perché è sacra Fidatevi che è la nostra Aia Ragazzi scusate Io lo sto facendo Sì Qui Non c'è mai stato nulla Se qualcuno scrive nei commenti che dice qualcosa Non dovete mai farlo Mai Allora Vado nella mia seconda casa In soffitta In soffitta Da mia madre Comunque Se volete Che io vi porti Emma su questo server Se riesce ad entrare Ve la porto Ecco la mia casa Vabbè ragazzi Stai davanti a notte Ragazzi Direi che questo video si può concludere qui Un bacio Un abbraccio Ciao